Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Ferrini, sono il presidente del motoclub FMI Frog Fury Road siamo nella sede del nostro motoclub Dottore Beretti oggi è un incontro con Lene Rapaglia che è impegnato nel campionato MES e c'è questo sodalizio tra il nostro motoclub e il suo team quindi oggi avverrà ufficialmente lo scambio delle poli istituzionali e speriamo che sia una lunga e profilo collaborazione Grazie Viva il lupo, viva il lupo Ciao, sono Lene Rapaglia, presidente del EF Racing Team costituito da pochissimo, dopo tanti anni di pensieri è nato e speriamo prosegua in una maniera bella e niente, abbiamo pensato a questo tipo di gemellaggio in sorte di gemellaggio perché siamo tutti e due di vede siamo due cose diverse però diciamo che si riunisce nella stessa maniera nell'amore delle moto, cioè io andando forte in pista e loro spero andando con calma per strada quest'anno parteciperò al campionato Motestate 2020 organizzato dal Club Ducale e naturalmente dalla Federazione Italiana Moto è un campionato nazionale a livello professionistico e vediamo un attimo cosa dopo 46 anni cosa mi riserverà la prima partezza Niente, il campionato Motestate è quello che ha vinto Alberto Fontana detto NASCA l'anno scorso e ho visto che i suoi avversari sono molto tosti io quest'anno spero di potergli dare almeno fastidio perché il primo anno è sempre buona incognita e vediamo e vediamo Grazie a tutti.